Prosegue questa attività che ci vede impegnati ormai da anni. C'è una parte di numeri che mettiamo in risalto, che sono quelli che conosciamo, cioè la rilevanza del comparto della Blue Economy alla Spezia e ci sono anche poi delle volontà dietro le nostre azioni. I numeri appunto ci dicano che la provincia della Spezia è quella che ha l'incidenza di imprese maggiore sul numero di imprese operanti sul nostro territorio. La volontà è quella di creare un distretto della Nautica che faccia diventare la Spezia una delle capitali mondiali di quello che è la Blue Economy e in particolare la Nautica da Di Porto. Il Miglio Blu è un progetto che sin dall'inizio ci vede affiancati al Comune della Spezia per la promozione perché naturalmente mette a regime tutte le qualità del nostro territorio in questo comparto e noi crediamo molto in questo progetto. Questo è un evento internazionale alla cui base c'è sicuramente la tecnologia, il design, la componentistica e quindi tutto ciò che è all'avanguardia e quindi tutto ciò che le aziende del Miglio Blu rappresentano perché non ci dimentichiamo che la Spezia, capitale mondiale della Grande Nautica, ha in sé un miglio veramente importante che già di per sé basterebbe ad essere la capitale della Grande Nautica e invece aggiungiamo l'indotto che rappresenta e quindi 3.000 aziende, 12.600 occupati nei comparti della nautica, del yacht, del refitting, del repair e soprattutto della nautica da Di Porto. Camera di commercio presente al Citec di Carrara non solo per promuovere il Miglio Blu ma anche per promuovere il B2B Mare della Spezia, l'evento che mette in contatto le aziende della filiera Nautica. Quest'anno il 23 di novembre ci sarà la seconda edizione di questo evento che è estremamente importante, un evento a livello nazionale dove le aziende possono incontrarsi, possono dialogare, possono cercare di creare dei momenti di dialogo, di confronto e noi ci auspichiamo come sistema associativo sia Confindustriale che come CNA che sia l'occasione per creare opportunità di lavoro e opportunità di collaborazione.